Si chiama Michelle Haney, è una donna di 51 anni di età di nazionalità inglese, precisamente di Rotterdam, ci troviamo nello Yorkshire del Sud. Pensate che questa donna è uno dei casi dei cosiddetti falsi invalide, in pratica infatti, ripeto, questa donna, diciamo che aveva ingannato qualcuno, ormai avrebbe ingannato delle autorità sanitarie facendo sapere di essere sulla sedia a Rotterdam. In realtà Costey stava bene infatti, andava a cavallo, faceva guidazione e in pratica avrebbe sottratto alle casse economiche inglesi una cifra veramente da capogiro, circa 33.711 sterline. Ovviamente poi le autorità sanitarie dell'Inghilterra se ne sono accorti, hanno capito che ci sarebbe stato questo inganno nei confronti dello Stato dell'Inghilterra, sono state avviate le verifiche del caso e quindi adesso la donna si verrà costretta ad avere tutta la somma percepita, le 33.711 sterline in totale raggiunte, ottenute in maniera indebita. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi utenti di Youtube, iscrivetevi nei commentari. Ciao a tutti, una buona serata.